Bella vecchi drama di Demi Grans, siamo tornati con un nuovo pack opening, finalmente forse con la facecam, perché l'ultimo sapete come è andata a finire, non vi stiamo qui a spiegare, speriamo che questa volta vada bene, tutto bene, senza la reflex che si blocca, cazzi vari, cominciamo subito con il primo pacchetto, l'ultima volta abbiamo trovato Bravo Tots, porca puttana, un pacchetto bravo, 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 Bransy, Gordon, c'è subito un bel Gordon, Gransy, lol, ha scartato un pacchetto, lol, vabbè, fa niente, Tu faccia scartare perché ti dicevo sei sicuro di vuole scartare anche questo oggetto, si sono sicuro che voglio trovare qeisling, è un altro cavalli, e da me ne vale tanto questo però, questo vale un po' del cio, affanpulo Stai facendo il video? Bravo, bravo, un altro cos'hai un altro bravo, Keane, mi sono sbagliato, dai non trovo nessuno, non trovo nessuno, Ronaldo Messi Tozzo ne ho stesso pacchetto mai infatti fa una vita come quello lo savo attenzione attenzione ding 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 donna troveremo la zona non magler adler 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 rapizia amore al basilea mi chiamo ricordavo attenzione attenzioni papa con poco perché mi sono qua 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 capa che hai creduto che era quello è già in casa o le mancava attraverso quello che cercavo di 4 guard e sono riempito tossico ma tu non vuoi trovare il soggetto che deve il video no no io io voglio trovare questo vero questo no voglio trovarla che giù 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 136 mila rimasti dobbiamo trovare almeno un tozzo ragazzi perché sennò non c'è da nessuna parte è cazzo dai due vabbè non affanculo tutti quanti guardate ma lì c'è sta a cavità ma che so che ma che so storie che sosti cosa a un culo mi ha detto un culo mi amo un culo libiamo attenzione vediamo altro pacchetto siamo un altro piano house minato sono un buccato cato che d non troviamo questo è buon segno che c'è messi molly se è che iscritto dei pacchi adesso lo troviamo me lo sento acqua 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 ci sta acqua ci sta acqua eccolo acqua buon buon giù nel giù sono rimasti pochi pacchetti dobbiamo fare il massimo in questo bisogna fare un miracolo dove è finito il culo dove è finito un bel miracolo serve qua dove è finito un culo 80 mila vuol dire che sono la bellezza di quasi c'è sette pacchetti sei pacchetti attenzione c'è moia bravo 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 c'è messi eccolo messi si basta ecco la popolo dos santos 2 e 4 ma in a vita dai eh non può finire così no non può finire così caramere dammi un altro toz ti prego mi hanno una nocchia devi morire intanto guardiamoci questi no non ci avremo mai impossibile è impossibile davvero ancora lui scatto col cazzo però che abbiamo molti rari quindi un bel tollo bello alto diciamo un bel tozzo dai cazzo dai cazzo c'è qualcosa te prego daccelo uno non artigli niente ammudato pure ma fanculo è fatta apposta mi fatti ne apriamo un altro va oh che culo e apriamo un altro ci giochiamo grattagnana di valle tutto qui ce lo giochiamo dai 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 un toz è veramente demoralizzante tutto questo però ci consoliamo perché abbiamo trovato un gran portiere bravo nello scorcio pack opening non è che a parlare comunque se vi è piaciuto questo pack opening lasciamo 7 8 se siete anche buoni 10.000 per vederne un altro lo faremo più grande da un milione c'è sta e vi troveremo tutti quanti per forza perciò se vi è piaciuto lasciate un like andate nei nostri instagram qui in descrizione ci sono le prime righe i nostri tuoi instagram andateci e noi ci becchiamo al prossimo video come sempre bella ciao si bloccherà si bloccherà